Ciao ragazzi e benvenuti su Ryan World Channel e oggi apriremo una figurina di FIFA World Cup Russia 2018 ragazzi io non mi ricordo i nomi dei fan che mi volevano salutare in questo nuovo video ma io li saluto lo stesso dedicando a questa figurina ok ragazzi direi di procedere ma prima mettete like su e iscrivetevi al mio canale qua sotto ok direi di cominciare ragazzi troviamo Jesse Lingard poi ragazzi troviamo Goalstopper David De Gea ragazzi David De Gea Goalstopper guardate Sharedan Shakiri scusate della Svizzera da 321 oh scusate ragazzi mi è caduta poi troviamo Sebastian Coates dell'Uruguay da 346 poi troviamo Diego Reyes poi troviamo Diego Costa ragazzi Diego e Diego 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 ragazzi ora riguardiamo insieme le figurine Diego Costa Diego Costa si Diego Costa di nuovo Diego Reyes ragazzi come ho fatto a trovare due Diego di differenti nazionali poi troviamo dell'Uruguay Sebastian Coates Shakiri Shakiri che penso che ora gioca in Inghilterra al Stock City penso si ok poi troviamo Goalstopper David De Gea ragazzi David De Gea è bravissimo mi serve proprio sull'app poi troviamo Jesse Lingard dell'Inghilterra ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mettete like su e iscrivetevi al mio canale ragazzi ciao e vi dico un'altra cosa ragazzi domani secondo me troveremo una card fans favorite una card della Tunisia e una card del Belgio domani per me trovo ciao ciao